Giovanni Fornoni, segretario cittadino del Partito Democratico di Lecco. Dall'1 al 18 giugno torna la festa del PD. Il senso di questa iniziativa nel 2017? È un'iniziativa su cui poniamo una grande attenzione e anche una grande importanza. Dopo le primarie del 30 aprile che hanno rilanciato in modo molto positivo la partecipazione e tutta l'immagine del Partito Democratico, vogliamo dare ai cittadini di Lecco la possibilità di incontrare dal vivo la realtà del Partito Democratico, nelle varie forme in cui la proponiamo con l'attività della festa democratica. Ci saranno degli incontri di approfondimento su temi importanti, poi ci saranno dei momenti di aggregazione che noi riteniamo assolutamente importanti proprio per dare la possibilità di conoscerci un po' più da vicino, per far presenti i propri problemi, le proprie necessità, le critiche che ci possono essere anche rispetto all'attività nostra amministrativa del Comune di Lecco e vedere insieme di costruire una condivisione più ampia in modo da riuscire a realizzare meglio i nostri obiettivi. Poi ci saranno anche dei momenti di, chiamiamolo divertimento, comunque di attività ludico-ricreative per venire, conoscerci, incominciare a prendere contatto e instaurare un dialogo un po' più continuo rispetto agli eventi più tradizionali, più ormai ordinari della vita del PD, come possono essere i nostri incontri, le assemblee, le primarie e tutto quello che in città stiamo facendo. Rispetto al passato è cambiata indubbiamente la partecipazione alla vita politica. La festa democratica mantiene tuttavia un appeal. Secondo lei perché? Prima di tutto perché c'è una storia alle spalle e c'è un riconoscimento di un'attenzione alla realtà aggregativa, all'ecco, che sicuramente fa da base a tutta questa esperienza. La tradizione non si annulla anche nei momenti in cui la partecipazione si fa un po' più difficile. Ci sono persone che aspettano questo momento della festa democratica come momento ormai tradizionale in cui c'è appunto la possibilità di ritrovarsi magari attorno a un nuovo piatto che è il menù democratico per avere un momento di dialogo, di colloquio, di confronto e quindi questo sicuramente aiuta molto. E poi il nostro partito è vivo, è più che vivo in città. Abbiamo tutta una serie di iniziative durante l'anno che quindi rendono abbastanza normale poi il fatto di riconcentrare un po' l'attenzione su tutto questo lavoro che noi facciamo ordinariamente in un momento un po' diverso e naturalmente che si allarga una partecipazione più ampia come può essere quello della festa democratica. Nel nostro partito vengono lanciate molte iniziative anche a livello parlamentare, sono state fatte in questi anni di governo anche molte leggi, alcune delle quali molto discusse, però non c'è mai poi tempo di rielaborare anche con il semplice cittadino che magari non ha voglia di avere una tessera di partito o partecipare ad iniziative istituzionali ma è poi la parte più importante del processo politico quello di confrontarsi con la gente della propria città e del proprio paese. Quindi la festa ha sicuramente questo valore intrinseco però molto importante che una volta all'anno non bisogna dimenticarsi di affrontare e di organizzare con impegno ed entusiasmo. I temi e i relatori. Quest'anno ci siamo concentrati sui temi che nel nostro Parlamento in questi anni di governo sono stati affrontati però con l'idea di dargli questa sfaccettatura innanzitutto tutte le volte che è stato possibile abbiamo lanciato il tema qualche giorno prima, il tema del dibattito con un'iniziativa più divertente, più ludica e poi ci volevamo concentrare e interrogarci su come queste leggi, che ne so la legge sul dopo di noi piuttosto che la legge 107 del 2015 la cosiddetta buona scuola e la ricaduta che poi queste leggi hanno sul territorio. Per esempio verrà trattato il tema dell'immigrazione e dei profughi, un tema molto importante per i territori e qualche giorno prima del dibattito verrà fatta una partita di pomeriggio con richiedenti asilo del nostro territorio con altri giovani e questo sarà il lunedì 12 giugno. A seguire, il giorno dopo il martedì 13, per esempio avremo come ospite il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che è uno dei tre firmatari della proposta di legge popolare sulla immigrazione e l'inclusione sociale insieme al nostro sindaco Virginio Brivio. Ci sarà il tema sulla legge regionale per l'antiviolenza. Qualche giorno prima, esattamente il domenica 4 giugno, la sera verrà proiettato un film di Cucor alla presenza di Massimo Ferrari e Monica Bonsangue che commenteranno e aiuteranno il dibattito e poi dicevo il giovedì 8 giugno invece ci sarà il dibattito proprio sull'argomento. Non solo però riflessione, anche momenti aggregativi. Un momento leggero ma al contempo anche impegnativo è dedicato e organizzato dalla comunità turca presente proprio nella nostra città che non solo si occuperanno di cucinare per noi piatti tipici e proporci la loro musica ma precedentemente ci sarà un dibattito molto interessante dove va la Turchia di Erdogan. Ci sarà Bulent Tezzan insieme al nostro giovanissimo eurodeputato Brando Benifei. Ci sarà una serata jazz e poi ci sarà invece una serata un po' più frizzante organizzata dai giovani democratici l'11 giugno, Like a Rolling Party con due gruppi del nostro territorio, il Coppola MBG e l'ultimo branco. Ci sarà anche una serata di Burraco, una serata di Liscio, ci saranno tre serate in cui il nostro Fotoclub farà le proprie attività e presenterà le proprie fotografie e tante e tante altre iniziative. Non manca, e un accenno è già stato fatto, la buona tavola. Le due novità di quest'anno. Innanzitutto per permettere a tutti di venire a incontrarci, a conoscerci e star con noi abbiamo fatto un angolo paninoteca e birreria che sarà aperto dalle 18.30 alle 24, quindi un tempo molto lungo dove anche si può venire a mangiare un semplice panino ma molto buono e della buona birra artigianale per la quale è stata fatta una certa ricerca sul territorio. E poi la ristorazione tipica della nostra festa, però anche lì saranno introdotti dei pietti nuovi, quindi una ristorazione di buona qualità con i prezzi democratici. E il menù d'emme. Si potrà già assaggiare dalla prima sera. Un piatto unico, però con vino o comunque bevanda, caffè e dolce incluso. Il piatto consiste in una lasagna con i colori democratici, quindi verdi, bianchi e rossi, pesto, lasagna e pomodorini. Il luogo ovviamente è il luogo tradizionale, noi siamo appoggiati al Circolo Libero Pensiero di Via Calloni di Rancio di Lecco. Abbiamo ricordato di cercare di posteggiare in Via Gorizia, in Via Don Bosco, cioè nelle vie sottostanti alla zona del Circolo Libero Pensiero. Spero che la gente colga questa occasione perché la politica la si fa con la base, con la gente. Se noi cittadini non vengono anche a tirarci i pomodori in faccia e a dirci cosa non va, noi non abbiamo riscontro. Anche di fronte, ripeto, a un bicchiere di birro o di vino, senza esagerare ovviamente.